allora bimbi credo che prima di fare il gioco ci sia una cosa un po noiosa che vi fanno le lezioni di guida ragazzi voi andate alla scuola inglese state capendo adesso c'è il video poi c'è la prova orale la prova scritta e poi la prova la prova su strada amore ma che otto ore per fare una curva dove va liam liam sei contromano sei contromano liam leone dietro il cespuglio ferma allo stop amore ma guardate leo che si ferma allo stop mezz'ora e poi va bravo amore bravo amore sei fuori corsia